Continuano le fibrillazioni nella maggioranza regionale alle prese con un rimpasto dalla duplice difficoltà perché condotto da un PD indebolito dalla patosta elettorale del 4 di marzo e perché prossimo alla scadenza naturale della consigliatura incompatibilità del presidente e senatore D'Alfonso permettendo. Il lavoro di Giovanni Lolli a cui è stato affidato il ruolo di mediatore non sarà facile anche se un primo risultato positivo l'ha portato a casa con l'ingresso di Giorgio D'Ignazio in giunta quale assessore al turismo. Al momento l'emorragia del centro-sinistra è stata tamponata ma è chiaro che il cerotto non può essere una soluzione duratura. Da sinistra MDP articolo 1 con Marinella Sclocco continua a chiedere maggiore collegialità e condivisione delle scelte politiche della giunta regionale criticando nemmeno troppo velatamente D'Alfonso il PD. Gli risponde l'assessore al bilancio Silvio Paolucci ricordandole le assenze alle riunioni dell'esecutivo e i provvedimenti approvati nel campo del sociale. Resta critica anche la posizione del gruppo civico guidato da Di Matteo, Gerosolimo e Olivieri. Gli strascichi delle tensioni con il presidente D'Alfonso sono ancora percepibili con Di Matteo in ritiro nella sua rocca morice che spinge per un cambiamento netto di rotta aspettando le prossime mosse di Lolli intenzionato a stilare con gli alleati un programma di fine mandato. Chi sarà il prossimo assessore dopo D'Ignazio? Non è facile prevederlo. Molti indicano il nome di Maurizio Di Nicola che non conferma ne smentisce. Stiamo ancora in qualche maniera condividendo con i tre consiglieri di Matteo, Gerosolimo ed Olivieri un percorso di fine legislatura che trovi la soddisfazione compatta di tutta la maggioranza su alcuni temi importanti, la sanità, il lavoro, il rilancio degli investimenti nell'Abruzzo che ha visto un masterplan che non era scontato, che è stato il frutto del buon lavoro del presidente D'Alfonso e sicuramente un altro obiettivo di questa fine legislatura è chiudere la partita dei conti pubblici, dell'accertamento dei conti pubblici. Su queste sfide i tre consiglieri che hanno manifestato segni di distanza in questi giorni hanno però detto che sono effettivamente le sfide da mettere in campo. Vedremo se sarà necessario arrivare ad un'altra figura di assessore per cogliere meglio questi obiettivi. Ne stiamo parlando con serenità in maggioranza, siamo tutti a disposizione senza nessuno che abbia rivendicazioni particolari. La minoranza dal canto suo continua a battere dove il dente duole, cioè sulle dimissioni non date dal presidente D'Alfonso. Argomento caldo anche nell'ultimo consiglio regionale. Il presidente del consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, torna sull'argomento ribadendo che la linea è quella di seguire la normativa nazionale e regionale. Per riflettere, tra i scorsi 30 giorni, 30 giorni dal giorno della proclamazione, 16 di marzo, mi pare che cessino il 16 di aprile. Se entro il 16 di aprile non arriverà negli uffici della Presidenza nessuna comunicazione da parte degli eletti e quindi nel caso specifico del presidente D'Alfonso, si avvierà l'iter previsto dalla legge regionale, che è quello della convocazione dell'aggiunta per le elezioni, l'esame del carteggio e poi lì si avverrà un dibattito e si darà a corsa tutto ciò che prevede la norma regionale e la norma nazionale sull'incompatibilità.